Durante l'inizio del video, è importante ricordarti di premere il pulsante, iscriviti e di lasciare un mi piace. Grazie! Maria De Filippi sta finalmente godendo delle sue vacanze, il momento tanto atteso di staccare la spina e ricaricare le energie in vista della nuova stagione televisiva. Tuttavia, quest'anno le ferie hanno un sapore diverso per la regina della televisione italiana. È la prima volta, dopo molti anni, che affronta questo periodo senza la presenza di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso febbraio. Nonostante la mancanza, la De Filippi ha deciso di dedicarsi a vari luoghi, iniziando con alcuni giorni di relax al mare in Sardegna, per poi rifugiarsi nella sua amata Ansedonia, dove ha trovato pace e ha potuto sfogare la sua passione per gli animali, passeggiando a cavallo e giocando con i cani. In realtà, per Maria De Filippi, le vacanze sono iniziate con il lavoro ancora in corso. Durante i primi giorni trascorsi sulle spiagge di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, ha dovuto sovrintendere alle registrazioni della nuova stagione di Temptation Island, che è iniziata con grandi risultati di ascolto lo scorso lunedì. Nonostante gli impegni professionali, Maria trova comunque il modo di ritagliarsi dei momenti di relax. Uno di questi momenti è stato trascorso all'Argentario, nella sua amata villa Sadula d'Ansedonia, un luogo che Maurizio Costanzo amava definire la mia meraviglia. Qui Maria ha potuto riconnettersi con la natura e gli animali, una passione che ha sempre nutrito. Durante questi giorni, la De Filippi ha trovato il tempo di cavalcare di nuovo, riaffacciandosi al magnifico Verseas, il suo fedele compagno equino, al quale ha sempre dimostrato grande affetto. Ma non è tutto, come Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria, ha documentato su Instagram. La conduttrice si diverte anche con Saki, il Boat Hero di Raffaella, che da sempre è considerato la mascotte della casa di produzione e appare spesso in studio a uomini e donne. Ricordati di lasciare un tuo mi piace ed iscriverti al canale.